La stagione è stata ottima dal punto di vista dell'innevamento, che è la nostra materia prima. Non è stata altrettanto invece per quanto riguarda il meteo, nel senso che abbiamo avuto tante giornate brutte, perché c'erano precipitazioni, perché non c'era visibilità e tutto questo. Però complessivamente siamo soddisfatti, direi, perché abbiamo registrato un piccolo regresso rispetto all'anno scorso. Ci attesteremo intorno al 3-4% in meno rispetto allo scorso anno. Noi abbiamo bisogno di alberghi, abbiamo bisogno di posti letto, assolutamente. Assolutamente, siamo estremamente carenti, sicché oggi con tutto il lavoro e il rinnovamento che abbiamo fatto degli impianti e delle piste ci sentiamo un po' trascurati dal resto del paese, dal resto della valle, perché non mi limito a pensare a Madesimo, ma penso a Chiavenna, penso a tutta la Val Chiavenna, perché siamo talmente piccoli che possiamo ritenersi tutti collegati con quella che è la Valle Spluga, quella che è la schiare a vera e propria, in sostanza. Si devono creare alberghi, si devono creare locali di divertimento, locali più diversi per intrattenere la gente che viene, perché diversamente noi diciamo continuamente che il dopo sci da noi manca e questo dopo sci bisogna crearlo.